Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, bentrovati qui sul mio canale per questo secondo contributo di giornata che come vedete posso realizzare finalmente e nuovamente da casa. Con titolo del contenuto, il calcio italiano è nella bufera. Prima di svilupparlo però come sempre mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete un bel like al contenuto in fondo alla puntata, se questa sarà stata di vostro gradimento. Ora, che il calcio italiano sia nella bufera mi pare sia un dato di fatto e da un certo punto di vista è anche giusto che lo sia se quello che sta accadendo verrà confermato in toto. Quello che però io vi domando, vi sembra normale? È un quesito che credo legittimo e al quale spero ci sia qualcuno di voi magari che si occupa direttamente di legge, di diritto, magari di diritto sportivo, che sappia dare risposta a questo mio quesito. Perché io trovo alquanto aberrante che si stia facendo questa spettacolarizzazione dinanzi ad un problema grave, un problema molto serio, un problema che va ad impattare su una delle più grandi aziende del paese che, ribadisco, non deve essere tutelata in quanto grande azienda del paese se all'interno di questa azienda è presente del marcio. Deve essere scovato questo marcio, deve essere fermato, deve essere ripulita questa azienda dal marcio che vi è all'interno. Non c'è dubbio. Ma il marcio che vi è all'interno, l'abbiamo raccontato più volte su questo canale, non è semplicemente dai protagonisti come sta emergendo in questo momento attraverso le rivelazioni di Fabrizio Corona. Perché quello che a me sgomenta, e non so a voi, ed eventualmente potrei essere io assolutamente in fallo in questa situazione, sia chiaro, la mia è un po' anche di pancia questo contenuto, lo realizzo un pochino anche di pancia per ciò che sto leggendo, per ciò che sto venendo a conoscenza in queste ore, così come ne state venendo a conoscenza voi. Io, tra l'altro, alcuni nomi ho avuto modo di saperli anche in anticipo sulle dichiarazioni di Fabrizio Corona, ma non è questo che mi interessa. Non mi interessava fare lo scoop, conosco i nomi per poi esserli confermati da Fabrizio Corona. Sì, un nome l'ho fatto ad amici, sapendo che sarebbe uscito quel nome lì la sera, nel tardo pomeriggio, ed era quello di Tonali, ma non mi interessava fare spettacolarizzazione come si sta facendo adesso. Cioè, Fabrizio Corona sta cavalcando la sua onda, e i media stanno cavalcando l'onda di Fabrizio Corona per fare spettacolarizzazione, per rendere il tutto come se fosse un reality show. Ora, siamo, ripeto, dinnanzi ad un gravissimo problema che impatta su una delle più grandi aziende del paese, che coinvolge tanti dipendenti di questo sistema, che in quanto rei di aver commesso degli illeciti è giusto che paghino. Ma quello che trovo sconcertante è che il tutto, ripeto, sia portato avanti attraverso la spettacolarizzazione di questo problema. Perché ne abbiamo parlato ancora su Fagioli, su Tonali, su Zagnolo, che sono stati i primi tre nomi, Fagioli il primo, poi Tonali e Zagnolo gli altri due. Poi adesso ne stanno uscendo a bizzeffe, e sembra che siano soltanto una piccolissima parte del problema sistema calcio. Perché ne usciranno ancora? Perché sembra che ci siano tanti altri nomi coinvolti? Sono stati sequestrati i cellulari per verificare nelle chat, magari che fanno capo a questo gruppo di scommettitori, capire chi realmente scommetteva sulla propria squadra, chi realmente scommetteva sul calcio soltanto. E quindi non c'è dubbio che il problema sia un problema serio, che sia grave, che sia grosso, e che vada combattuto. Però farlo attraverso, ripeto, il ridurre il tutto ad un reality show, comunicando gli orari in cui dovranno uscire o usciranno i nomi, ulteriori nomi legati ad una società, piuttosto che dirigenti di un'altra società di calcio. Ecco, lo trovo altamente squallido se si pensa che si sta giocando e si sta spettacolarizzando e si sta cercando di fare visualizzazioni, di fare audience su questo problema. Voi direte, beh, fa parte di una parte del modo di fare televisione, di scrivere, di fare spettacolo, di fare comunicazione, di fare notizia. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma qui siamo più dinnanzi a quegli scoop da, non voglio fare il nome per ovviamente evitare di fare pubblicità, evitare anche eventualmente di incappare in inciampi poco simpatici, ma di quei settimanali, mensili, che fanno gli scoop come fossero storie d'amore, tradimenti. Quindi rimango basito e sconcertato, perché se è vero che a seguito delle rivelazioni di Corona le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire, recandosi a Coverciano, sequestrando i cellulari di Zagnolo e Tonali, per evitare che si potessero, diciamo, cancellare eventuali tracce, non vedo perché, non vedo come non possa accadere lo stesso attraverso questa spettacolarizzazione, che invece dovrebbe essere una sorta di indagine condotta nel più stretto riservo, proprio per evitare che l'eventuale spettacolarizzazione induca gli eventuali peccatori, gli eventuali rei di illeciti, scusate, di cancellare le possibili prove che appunto testimonino la loro partecipazione, il loro far parte di una setta, di una schiera di scommettitori, come sappiamo, illegale, illegale e che l'articolo 24 del codice di giustizia sportiva sanziona con una pena non inferiore ai tre anni. Ora, il caso di Nicolo Fagioli, che si è autodenunciato e quindi pare stia collaborando e quindi sostanzialmente avrebbe patteggiato, probabilmente avrà uno sconto di pena in tal senso. Vedremo quello che sarà, scusatemi ancora, per quanto riguarda le posizioni degli altri due, Tonali e Zagnolo, che pare abbiano negato di aver scommesso sul calcio. Vedremo quella che sarà la posizione di Zaleschi, altro nome che è appena uscito e che avrebbe addirittura scommesso, si è eletto, su una possibile sua ammunizione nel corso di una partita del maggio scorso, ammunizione arrivata al 94esimo minuto. Ma queste sono cose gravissime. E quando questa mattina, commentando ciò che mi infastidisce relativamente alla questione che si sta verificando, il non gettare sentenze, il non mettere all'agonia questi ragazzi, beh, sia chiara una cosa, chi ha sbagliato deve pagare, chi non ha mai sbagliato alzi la mano. Parlare di poveri ragazzi mi sembra eccessivo, perché questi sono ragazzi che guadagnano fior fior di milioni, i poveri ragazzi sono altri, non c'è dubbio, però al tempo stesso credo che chi sbaglia e chi riconosce di aver sbagliato, soprattutto, debba avere la possibilità di poter essere aiutato, che non significa che non debba essere sanzionato, che non debba essere punito, perché è giusto che Fagioli e chi per lui, da Tonali a Zagnolo, a Zaleschi, a tutti gli altri nomi che usciranno, qualora fossero certificate i loro reati, le loro scommesse, quindi illegali, è giusto che paghino e paghino con una sanzione che debba essere correlata all'infrazione commessa, giusta, e quindi chi ha scommesso sulla propria munizione è giusto che venga punito, ma questo non significa massacrarli, nonostante, ripeto, sia certamente difficile da comprendere come dei giovani che hanno davvero tutto, che fanno il lavoro più bello del mondo, perché è il loro mestiere, il loro sport preferito, giocano per la squadra magari nella quale sono cresciuti e che un giorno sognavano di poter vestire la loro maglia in Serie A, possano arrivare a mettere a repentaglio la loro carriera per una cosa del genere. Trattasi di ludopatia, che è un male, è una patologia grave, che va curata, e per la quale spesso leggiamo nelle pubblicità, attenzione perché il gioco, le scommesse fanno male, possono nuocere alla salute, ma è troppo poco, perché evidentemente servirebbe anche una sorta di maggior educazione in tal senso. Non sono qui a farla morare a nessuno, non sono qui a dire io quello che bisogna fare, sono qui a dire che il calcio italiano, che già viveva nei gravi problemi creati attraverso ciò che è stato manifestato lo scorsa stagione con quello che è stato fatto alla Juventus, gode di poco appeal, gode di poco voglia di investire nel prodotto calcio Italia, beh, adesso certamente avrà ulteriori problemi, perché qui la cosa si ingrossa, la patata è davvero bollente, e allora se saranno in tanti a pagare, il calcio italiano è davvero molto molto a rischio. Diversamente vedremo quale linea potrà prendere, visto che invischiati in questa vicenda non ci sono soltanto i tre calciatori usciti nei giorni scorsi, ma pare esserci davvero una bolla di tanti giocatori A, B e C che diventa sempre, sempre più grande. Aspettiamo i prossimi sviluppi, certo è che la situazione è davvero drammatica, ma a me non sembra normale che lo diventi e diventi sempre più attraverso la spettacolarizzazione che ne stanno facendo Corona e Media, che stanno cavalcando l'Onda, l'audience che sta facendo ovviamente tutto questo mettere in pasto al popolo un nome alla volta per un orario ed una data ben definiti ogni giorno di più. Ditemi la vostra, ci sentiamo come sempre, fino alla fine, Forza Juve, ciao!